Chi è Cristian Carino, il fidanzato di Lady Gaga Che Lady Gaga e Cristian Carino si stessero frequentando e che facessero sul serio ero noto. Da tempo, nell'ambiente, si vocifera di un matrimonio ormai prossimo. E anche se, in questo senso, di confermi non ne sono arrivate, Lady Gaga ha sicuramente fatto un passo avanti, postando per la prima volta sul suo profilo Instagram una selfie in compagnia del fidanzato. Non si nascondono più, Lady Gaga e Cristian Carino. Da tempo, al fianco della bionda pop star, si nota la presenza di un bell'uomo dai tratti latini. Che non è certo una fiamma passeggera ma che, anzi, sembra aver davvero rubato il suo cuore. Ricucendo i pezzi dopo la rottura della sua relazione con l'attore promesso sposto Taylor Kinney. Ma chi è, quell'uomo che Lady Gaga guarda con gli occhi dell'amore? 48enne in forza presso la CA, creative artistes agenti, Cristian Carino a Hollywood, è uno dei più celebri agenti delle star. Tra i suoi clienti vi sono Justine Bieber, Milei Cirrus, Harry Stiles, Simone Cowell e Lady Gaga stessa. Per la prima volta, i due sono stati sorpresi insieme lo scorso gennaio. E, il mese successivo, Cristian andrà in prima fila ad applaudire la cantante nel corso della sua performance al Super Bowl. E poi, eccoli insieme al 70 grado compleanno di Elton John e ancora a festeggiare i 31 anni di Lady Gaga, era chiaro fin da subito che, tra la germanotta e il supermanager, non fosse solo un fuoco di paglia. Inseparabili durante le occasioni ufficiali seppure non abbiano mai fatto un vero e proprio debutto, ritratti fianco a fianco nel loro tempo libero, hanno costantemente sguardi innamorati e corpi vicini, è vero amore, tra loro. E lo è stato fin da subito. Secondo il gossip, pare che per Cristian Carino Lady Gaga non sia la prima fidanzata famosa. Si dice frequentasse Laura Cohen, star di The Walking Dead. Ora, però, i suoi occhi dalla più eclettica delle pop star sembrano non volersi staccare più. La conferma da Instagram. Sebbene stiano insieme da quasi un anno, solo oggi Lady Gaga la sua relazione con Cristian Carino l'ha ufficializzata. E l'ha fatto attraverso il suo profilo Instagram, postando l'immagine, dolcissima, che la ritrae in luccicante abito di pilotess rosa, firmato Oscar de la Renta col fidanzato a posarle il mento sulla spalla. In rosa per accendere l'attenzione sulla questione del cancro al seno, Lady Gaga descrive Cristian Carino come qualcuno di davvero importante. E, nel post, si dice triste per la scomparsa della sua amica, Sonia Durama che proprio a causa di un tumore al seno è deceduta lo scorso maggio, e che lo scorso sabato avrebbe compiuto gli anni. Arriba così, un po' inaspettata, la prima foto ufficiale della nuova coppia. In realtà, di aver ritrovato l'amore dopo la rottura con Taylor Kinney, Lady Gaga non lo aveva mai negato. Quando sono rientrata nel backstage, Cristian mi stava aspettando sulle scale per accertarsi che andasse tutto bene. La cosa più bella di essere innamorata è avere qualcuno pronto a raccoglierti quando cadi dichiarava Lady Germanotta all'inizio di settembre, dopo un suo concerto. E, in effetti, Carino sembra davvero essere lì per lei. Nei momenti felici, e in quelli che lo sono meno. Come quando, di recente, ha confessato di soffrire di fibromialgia. .